Sono un cardiologo appassionato e innanzitutto volevo ringraziare tutti gli operi classi che è causata da un'attività che è in cui abbiamo un'attività, un'attività, le province, le università, le scuole tutti devono avere la disponibilità e tutte le migliorazioni e noi abbiamo vissuto un po' e' anche un'attività tanta modalità, tanta modalità quanta modalità, quanta modalità che fa valore? quante persone fombe le potere trovare la sciega? il riempio è che, per gli agravini in confezionato non hanno più nulla, non hanno più nulla e non hanno più nulla, non hanno più nulla e 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 non è più nulla il riempio è molto imposto che è un caso che è un'attività devono essere fatte delle applicazioni, delle contrazioni toraciche continue, almeno 100 al minuto, con energia, almeno 5-6 cm il torace deve contrarsi. Una in regione sottoclaveale destra, una in regione sottoclaveale destra e l'altra in regione mediale laterale, ascellale, all'altezza della punta del cuore. Vengono collegati alle bracche, al tempo il brillatore, che viene federamente acceso, si tratta di che si intende la punta del cuore. Toccare il cuore, scarica, 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 allontanarsi dal partito, effettuare, scarica, effettuando, in pausa. Se necessario, iniziare la rianimazione, cambio formale. Allora, se non arriva la cura, si sposta. L'unima, 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 l'unima. Analisi del rio. L'unima, 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 l Viene immediatamente presa una vena per poter avere la possibilità di infusione emotiva di farci. Grazie.